L'Arnold Prova a giocare sulle fasce Liverpool che muove bene il pallone in avanti Shaqiri Goal del Liverpool Che pareggia Attaccante che ha trovato il gol con una splendida conclusione a fin di traversa Fuori dalla portata dall'estremo difensore Bravo, molto bravo Anche fortunato in questa circostanza È passata proprio accanto alla traversa Hanno pareggiato dunque 1-1 Ancora un passaggio perfetto Un'altra buona giocata Grazie